Anche il punterolo rosso non risparmia le palme di Delia? Sì, è rispuntato nuovamente il problema, stiamo intervenendo di nuovo per cercare di debellare quell'attacco di questo parassita che attanaglia le nostre piante di palma. Sono più punti dove sono impiantumate queste piante, una l'avete salvata, le altre purtroppo no? Sì, siamo intervenuti in tempo e fortunatamente su quattro che erano state attaccate dal parassita abbiamo potuto salvare soltanto una pianta, fortunatamente in questi casi abbiamo cercato di fare il nostro meglio adesso si è ripresentato un nuovo attacco e stiamo intervenendo urgentemente in collaborazione con l'ufficio tecnico ai nostri addetti al verde pubblico per cercare di salvare queste nuove piante attaccate dall'insetto. Palme che da 23 anni sono cresciute, sono come i vostri figli, siete attaccati dal punto di vista affettivo? Infatti fanno parte del nostro patrimonio architettonico del paese e appunto per questo noi con l'intera amministrazione ha dato la massima disponibilità all'ufficio tecnico, agli addetti e al verde pubblico di fare tutto il possibile purché questo insetto possa essere almeno combattuto. La palma quella vicino alla caserma Carabinini pare ha cominciato a vegetare nuovamente? Sì, fortunatamente lì siamo intervenuti in tempo e abbiamo salvato almeno una su quattro siamo riusciti a intervenire in tempo e quindi farle riprendere la ripresa vegetativa. Oltre all'UTC anche i vostri operai si sono adoperati, non si sono tirati indietro? No, infatti come ho detto poc'anzi c'è la massima disponibilità sia da parte dell'amministrazione che degli uffici competenti. Appena avuto notizia, assessore Gallo, di questa emergenza lei si è subito messo in contatto con il responsabile del servizio fitosanitario regionale? Precisamente con il dottore Giuseppe Santoyemma dove sono riuscito a farlo venire pure a Delia e abbiamo effettuato il sopralluogo insieme a lui e all'architetto Laverde dove è stata evidenziata appunto la presenza e l'intervento urgente da effettuare per appunto debellare questo attacco. Insomma nulla viene lasciato al caso? No, stiamo cercando di fare tutto il possibile purché questo patrimonio possa essere conservato per la nostra cittadinanza.